Musica Ho acceso la cooking cam che però non ha senso Quindi la rispengo Ci siamo eh Allora vedo che hai mezz'ora e poi devi andare a fare fisioterapia Oh sto cadendo Allora ci dovremmo essere, dovremmo essere live Dovrei essere live in realtà Allora puntata un po' particolare Non c'è assolutamente Umberto C'è Alessio, Alessio sta facendo avanti e indietro Perché è molto infastidito dalla scomparsa dei suoi piatti Quindi è molto infastidito, quindi buongiorno a tutti quanti Dicevo oggi è una puntata molto particolare Uno perché ho un mal di testa che la metà basta Di colpa della cervicale Ma soprattutto perché non cucino quest'oggi Ma Alessio ha voluto, mi ha detto di aver preso Di essere rimasto coerente con la sua, con la sua linea contenutistica Ma a tema, quindi coerente ma a tema Ma l'hai trovato, vedi che stava di là, te l'avevo detto Coerente ma a tema, quindi abbiamo ovviamente acceso il forno Tanto per cambiare Vuoi presentarci la cosa? Assolutamente sì, non guardare Aspetta che accendo la cooking cam a questo punto Sfrutterò la mitica cooking cam e vediamo Vediamo se funziona Sta suonando quindi ha raggiunto la temperatura Vediamo se ha fatto veramente questa Questo gioiello di non funzionamento Vediamo Si è già spenta? Perché è andato in protezione il telefono? No, aspetta proviamo a rifare un attimo Da capo? Nessun video Browser Ok ci dovremmo essere così Sì ci siamo Ecco, infatti Madonna, è una figata astronomica questa roba Per parte che mi devi fare la finestrella Perché altrimenti Ce l'hai la finestrella? No, me la devi fare rettangolare Non me la devi fare quadrata Tra l'altro non ho croppato bene Perché? Va benissimo Perché in 16 noni deve essere No, va benissimo Allora abbiamo fatto Si vede che il salottino avanza La tecnologia avanza Questo salottino ci sta stupendo Sono riuscito a mettermi in piedi Una telecamera portatile Finalmente Quindi Allora Oggi Oggi quello che facciamo Come antipastino Questo è l'antipasto Allora perché questa è Perché non riesco a fare la ripresa fatta bene Ma benissimo La tieni centrata E la vedono esattamente come la vedete però Non è che hai bisogno di quella Non è proprio centrato Comunque Halloween Craspys Ah quindi a tema Perché a tema Halloween Anche se non è una settimana Ma perché questa è l'unica live Che facciamo Cucinando Prima di Halloween Perché tanto siamo a Lucca E non potremo cucinare Comunque dopo ci mettiamo d'accordo Su che cosa fare per Lucca Allora Questi qui sono Arachidi in pastella Assortite al gusto Vabbè sono un classico dai Non so cosa sia Non l'ho mai viste Assortite al gusto Wasabi Piccante e barbecue Ingredienti Ingredienti è lunghissima 46% arachidi Diamito di mais Farina di frumento Olio di semi di girasole Zucchero Sale Aroma Contiene frumento e latte Destrosi o spezie Contengono senape Cipolla in polvere Aglio in polvere Estratto di lievito Proteine vegetali Idrolizzate Contengono Soia Coloranti Complessi delle clorofille E delle clorofille Cioè senti coloranti Coloranti Complessi delle clorofille E delle clorofilline Con rame Estratto di paprika Acidificante Acido citrico E su poco di sì 0,03% wasabi in polvere Piante aromatiche Cioè ma che significa Clorofilline con rame Cioè ma possiamo mangiare una cosa Che c'è il rame dentro Ma sono fredde però Vanno così Eh perché l'ho tenuto in frigo Per nascondertene Ah ma quindi non vanno Con pancucinate Sono proprio No Perché fredde però Perché l'ho tenuto in frigo Perché tu non le vedessi Ma le potevi lasciate in un mobile Perché è fredde Le anaghi di rivestire Sono buonissime Ma sono cancro e morte Poi Infatti sono piccantissime Sono un classico Non vuole far vedere lì Dalla taverna Dalla taverna Giuseppe Cos'è la taverna Giuseppe? La marca? Taverna Giuseppe C'è scritto lì La grande taverna Giuseppe Come potete vedere E' anche incredibile Questa seconda camera L'ho messo in piedi veramente Allora adesso ha comprato Ah quindi è Coerente ma a tema Halloween Monster Pizza Surgita Ah ce n'è una per confezione? Sì Quindi i prezzi ci devi dire C'erano anche le pizzette piccole Ce l'ho in tasca 330 grammi e 390 La mia pesa di più Non è perché è la tua Effettivamente Quanto le pagate se tu stronzate? Allora Le arachidi in pastella 0,99 Si sente tutto Fate con rame Pizza Halloween 1,49 Pizza crema zucca Questa 1,99 Quindi ben 2 euro E 1,50 euro a pizza Allora Questa che mi ha fatto È pizza Questa prima che ho preso È pizza con crema di zucca E pancetta affumicata Farcita con crema di zucca Vabbè Farina Mozzarella 10% di pancetta affumicata Con una quantità incredibile Di roba dentro 9% crema di zucca Farmaggio grana padano Dop Olio di semi di girasole Olio extravergine Oliva Sale Lievito Erba cipollina Pepe nero Amido di mais Normale Non c'è la mozzarella Il formaggio Sì c'è anche la mozzarella Sì sì Quest'altra Questa è bella però Quest'altra esatto Mi la facciamo vedere È il nero che mi chiedo che cosa sia La parte nera Ah è vero Sarà la parte bruciata Il nero No è una parte nera No Adesso stia esplodendo il tuo forno E no Io più che altro Sono pezzi di Pomodoro E nero Viutale pomodoro O viutale peperoni Allora dobbiamo trovare l'italiano Pizza farcita con salsa al pomodoro Formaggio cheddar Viuster affumicati Pomodoro Pronta da infornare Non c'è scritto effettivamente Perché è il colore nero Ingredienti Farina di frumento Passata di pomodoro 25% 11% Formaggio cheddar Quindi non ha la mozzarella questa 10% Viuster affumicati Con una cosa lunghissima Ah no Eccolo lì Petrolio Acqua 7% pomodoro Olio di colza Zucchero Sale da cucina Rievito di pianificazioni Preparazione a base di nero di seppia Nero di seppia Acqua Sale da cucina Amido di manioca Acido di vino bianco Succo d'uva Farina di frumento Pregelatinizzata Origano Timo Rosmarino Coriandolo Pasta acida di frumento essiccata Farina di cereali tostati e maltati Peperoncino piccante in polvere Cipolla in polvere Aglio granulare Cumino Pepe nero Aroma Questa potrebbe essere la vera merda Questa potrebbe essere la vera merda Questa potrebbe essere la vera merda Ma non è di vita Ancora? Sì sì Chiudi Halloween Pumpkin Crocchettes Quindi le crocchette di zucca Ma è sempre Taverna Mister Taverna No? Sempre Vidal Questa è made in Belgium È Belgium Crocchette con zucca surgelate Latte Zucca Farina Carote Cipolla Burra Burro Albume d'uovo Pan grattato Amido di riso Tuorlo d'uovo Sale Gelatina alimentare Piante Spezie Succo di limetta Cos'è il succo di limetta? Malto d'estrine Zucchero Amido di patata Olio di semi Girasole Estratto di lievito Succo concentrato di cipolla Grasso di pollo Così Il lardo del pollo Aspetta c'è Grasso di pollo Ed estratto di pollo Dà allevamento a terra Tra l'altro Oh beh Bello Noi rispettiamo gli animali Può Può contenere Tracce di Altri cereali Contenenti glutine Bostacei Pesce Soia Sedano Senape Molluschi Quelli sono gli impianti Sono gli impianti Dove vengono realizzate Le sapienti mani Ma non è finita Vabbè Non te l'ho mai preso Dai Un classico Le potato shapes Vabbè Queste qua sono le classiche crocchette Con le faccine Con le faccine però A forma di Zucca Di zucca incazzata Sì Farina di patate Con 87% di patate Vabbè Questo è molto classico Non è neanche C'è Giusto patate essiccate E da bere Che cosa vorresti Una bella Birra Ah la Duff birra Dove l'hai presa? All'Idon Mamma mia Mi ha se speciale questa Una grandissima Duff Metti tutto in forno Oh ma Direi che oggi Se non me moriamo Oggi è cattiva Oggi è cattiva Oggi potrebbe essere Tranquillamente Il giorno della nostra morte Avete deciso Di non superarlo Questo Halloween Allora Questa c'è una bella C'è un bellissimo messaggio Spegnerò adesso In questo momento La camera Perché Non vuoi far vedere Le ultime cose Prima di Prima di Metterle Sì Visto che la stai Sbustando Vabbè Queste si presentano Normali Perché ci sono due Quadratini Sono quadratini speciali Di Perché due quadratini Di ricotta Te li sposterò Però Ora lo metterò Un po' più di qua L'altra L'altra sono più curiosa C'era un bel messaggio Ho letto Di Italian Spurgy Non me lo vorrei perdere Poi lo rileggerò Questa è brutta Verena Questa sì Veramente È veramente pessima Questa qui Perché quella È senza cornicione Che schifo Ma veramente Ma si sono dimenticati Il cornicione Questa Ma poi è nera Guarda Sembra marcia Una pizza Marcescente Proprio Questa è proprio brutta Questa fa schifo Proprio L'altra sembra una pizza Sì Questa è veramente Una roba brutta A meno sì Esatto Questa sembra un po' una pizza Allora Ti riego un po' Di messaggi Perché Allora Quanto sei bello Pierpa Grazie Ti ringrazio moltissimo Aspetta C'erano per te Infatti Non me la vorrei mai perdere Allora C'era Italia Spurchi Che dice Un attimo Io a 24 anni Provo i maglioni E non li prendo Se si vedono i capezzoli Alessi invece Se ne sbatte la fava E li risalta Ma non ci posso fare niente Non esiste un maglione Che mi blocca i capezzoli Beh sì Basta che ti metti Il reggiseno Quello piatto O mi devo mettere Lo scotch Il reggiseno piatto Cos'è il reggiseno Cioè Metti un reggiseno A quel punto Non si vedono i capezzoli Eh Allora Dicono tutti Che l'enodiseppia Ha un sapore forte Quindi quello sarà asfalto Allora Sono sia fantasmini Che zucche Perfetto Sto leggendo eh Delitto a pranzo Ma non è ancora finita E tira fuori Un panetto di bamba Caspita Duff Mi rammancava No Te faccio vedere Dai Sempre con questo C'ha più senso Perché devo far vedere Con quell'altro Vediamo se funziona ancora No Non funziona Ogni volta che la spengo La riaccendo Evidentemente Me le devo ricordare Faccio vederle al volo Va Ma perché suona Continuamente Quel coso? Vorrei perché è arrivato A temperatura Ve la faccio vedere Queste qua bruttissime Di Alessio Così le vedete anche Ah fantasmini E zucche Non le avrei messi mai insieme No però più che altro Una parte che non ho più spazio Questo è pericoloso Perché secondo te Si fanno al forno Mi sembra Quella panatura tipica O lo friggio Non si può fare Secondo me non ci possono fare Versare il prodotto Sul gelato In olio per il riscaldato E friggere eccetera Non sovraccaricare il cestello Non prelevare le crotte Che devono No no Le metto lo stesso Al massimo faranno cagare Ma lei vale Ma cosa facciamo Quando friggi Quando frigo Io non frigo neanche a casa Non frigo mai Ma non puoi fare A fondo Vengono una merda Beh verranno una merda L'assaggiamo E poi dopo Capito ma rovini anche Le altre però No E che se mica Si avarga il sapore Niente da fare Allora Un po' di domandine Così un po' di chiacchiere Per passare tutto il caso di cucinare No anzi al contrario Se vengo fuori da Una cucinata eccezione La volta scorsa In realtà Ho seguito questo ragazzo Splendido Di mi pare Belgamo Bolzano Che mi ha mandato Tutto un tutorial Una guida Bellissima video Tutti i messaggini Whatsapp Gli ho fatto mille domande Mi ha risposto a tutto Ragazzo Meraviglioso Per fare la pinza romana A casa Quindi con la lievitazione Di un giorno E tutto quanto Ci ho provato Sabato e domenica Mi è venuta una merda astronomica Perché non ho l'impastatrice Ho provato a farlo col bimbi E è venuto uno schifo Infinito Io ce l'ho l'impastatrice La posso portare Portala La lasciamo qua E la faccio la pizza No no la lascio qua O la rovinta 400 euro Col cazzo Che ci fai? Ci faccio il pane La pizza Immagino Sì sì Mi piace panificare Ci chiede come mai Twitch Non ci banna per i capezzoli Neanche Instagram Se è per questo Allora Guardate che voi Nonno Zelda dice che le patate Sono molto buone Minate Minate la mia Sicurezza Il fatto che hai i capezzoli Ce li hai Alessio Allora E veramente il cornicione L'ha chiamata Alessio Non l'ho chiamato io No io infatti Sono contro la parola cornicione Però leggo che gli esperti Dicono cornicione Io l'ho sempre chiamata Momoka dice che Secondo me ti dovresti mettere Un registrino sportivo Di quelli per fare Jogging Ma non posso mettermi Un po' di scotch Secondo me si vede Se non ti metti Lo scotch Basterebbe anche la canottiera Dicono tutti Metti la canottiera Sotto al maglione Ma ce l'hai? Ce l'ha ragazzi Ha la canottiera Ragazzi Ha la canottiera Ma non basta A contenere i capezzoli No secondo me Ti devi fare la tuta Come Batman È vero però Ti devi fare la tuta Come Batman E stop E i calciatori Utilizzano una pettorina Che comprime il torace Sotto la maglietta Prova quella Ma perché Ve lo fa vedere i capezzoli Con ogni le prega i calciatori Che cazzo Non so che dirti Mi dicono tutti Che potevo lasciare Dice Luca Rosco Che potevo lasciare La telecamera Ma hanno prato Dalle tuoi capezzoli Allora Grande Westclaw Che ci lancia 100 bit Per farci risaltare Il suo messaggio Hai visto Ah Il nuovo trailer di Star Wars Cosa ne pensi Io l'ho trovato Molto nostalgico Ma con poco effetto Wow Cioè nonostante Dona un'altra possibilità A questa trilogia Segue il dopo The Last Jedi Che mi ha fatto Letteralmente defecare Infatti hai letto stamattina Il record Di biglietti Di prevendita neanche Battuta anche Avengers Efectivamente È la fine di un'epoca Che magari taglia Più trasversalmente Più generazioni E anche l'inizio Di un'altra epoca Quindi No La fine L'inizio di un'altra epoca Era il primo Di questa trilogia Significa Finisce un'epoca Che taglia Più generazioni Finisce un'epoca Che è quella di Star Wars Perché se vogliamo definirla Nasce col primo film Finisce con questa qua Tutto il resto è Disney production Inteso come Infarciamo Vendiamo il prodotto Però questo ha ancora Una dignità di arco Narrativo Che si ispira All'ethos iniziale Al racconto iniziale Quanto meno Adesso invece Puro fan service Tutto il resto Mandalorian Sarà anche La cosa più figa Dell'universo Però è Inutile Per un fan di Star Wars Addirittura Perché? Perché Perché è quella storia lì Tutto il resto è In più Spin off E robe del genere Che è roba commerciale Va bene Può essere di grandissima qualità Godibilissima Ma Irrilevante Se sei un fan di Star Wars È interessante Questa cosa che dici Io mi pare una cazzata Grande Giuppi TV Che si è iscritto Sto rosicando Perché non sarà Luca a rivedervi Perché? Giuppi ma come non sarà Luca a rivederci Ma sei pazzo? No Vi racconto Sono senza parole Perché è stata così Pierpaolo mi piacerebbe Venire a fare un giro a Luca A salutare la gente E robe del genere Ma che cazzo Ringrazio anche Dec89 Per l'iscrizione Ma che cazzo Vieni a fare No Finché non ti trovo Qualcosa da fare Mommi ma È finita che Devo partire martedì E tornare martedì Il martedì successivo Esattamente Ma perché il martedì Lunedì Ah posso ripartire lunedì Anche domenica notte Allora io vengo con te All'andata E torno in treno Sono quattro ore e mezza Come torni in treno? Prendo il treno Lunedì? Eh Perché? Non so Vedere se trovi uno Ma lo vai prende In stazione Non so se sarà un taxi Al massimo Non bene Se lo cammino piano Cici però il trailer Com'è andato? Se ti è piaciuto? Non mi ha raccontato nulla Niente No Non mi ha trasmesso nulla Ma va bene Allora per me Non ho sentito neanche Vincenzo Dove essere sincero Questa mattina sul trailer Ho letto però L'ottimo pezzo di Christian Che forse deve essere ancora pubblicato No mi sa che l'abbiamo pubblicato L'analisi del trailer Allora Sono ovviamente lontano chilometri Dalle esaltazioni di Christian Devo dire che Ah perché lui è esaltato? Sì Beh L'articolo trasmette Esaltazione Gioia Perché è acceso? Ah è acceso Devo dire che È molto furbo Perché ovviamente Quando ti spara le sue musiche Le sue musichette I suoi temi Comunque sempre Brividi E lacrimucce Me le ha tirate fuori Quello per fuori Esatto Perché comunque Cioè La musica è sempre bellissima Ricorda la storia Però Credo sia una cosa Completamente inutile proprio E anche quell'immaginario Che è bello Perché Star Wars Che dovrebbe farti vedere Panorami esotici Cose fantascientifiche In realtà per me C'era La cavalcata a cavallo Il Star Destroyer Che esce dall'acqua Boh Mi sembra un po' tutto Allora mi sa che ho visto Un altro trailer Un po' tutto extreme Ho visto un altro trailer Non c'era nessuna cavalcata E non c'era nessuno Star Destroyer Chissà che avrei visto Un trailer vecchio Ma che è quello Che è uscito oggi? Ci sono entrambe le cose Sono due trailer diversi? No Un trailer unico Con entrambe le cose Quindi devo dire Non mi ha detto molto Purtroppo Ha un po' Una cozzaglia di tutto Boh Allora rimane Rimane la curiosità Per vedere se G.G. Abrams È riuscito a ritirare Le fila della situazione Per dare una bella chiosa Quello assolutamente Non andrò Non credo che andrò al cinema Tu vai al cinema sicuro Sì al 100% Appena esce Addirittura se c'è L'anteprima stampa Vado come al solito L'anteprima stampa Allora Giovedì ci sarà il gameplay Assolutamente sì Alessio ci sarà Quindi gameplay alle 14 La passione per la cucina Quando è nata Da sempre La recarda Metti la sotto Se no non passa il calore Effettivamente dove l'hai messa? L'hai messa al centro No è sbagliato L'hai ventilato Non cambia il calore La recarda è quella sotto E quella sopra Quella sopra Ok Alessio sembra in forma oggi Abbiamo parlato Dele tre di Star Wars E ne abbiamo appena parlato Di quello Stai diventando sempre più Un super seducer Ma più che altro Ho letto tantissimo Con interesse Questo tuo confronto Con Robert Downey Jr Ma la gente Tu ci credi veramente? Non solo ci credo È sotto gli occhi di tutti Cioè Si hai fatto i capelli come me Come me L'anno scorso Cioè di solito Ero io che inseguivo Il tuo taglio di capelli Quindi anche il ritardo Lui Perché non sei fatti i capelli Come a te oggi Sei fatti come te L'anno scorso L'anno scorso Si si Se li hai fatti più corti Come quando ce li avevo L'anno scorso Alle tre E quindi secondo te? Probabilmente a fine carriera Sta tentando di rinnovarsi E ha un simbolo Di estetica E di lungimiranza Che sono io Ma ci sta Quando uno è un po' fuori dai giochi Italia Spurchi dice Alessio Ma scusa ma l'hai visto Qual è il prossimo film Di Robert Downey Jr Porca mignotta Cioè con tutto quello Che potevi fare Per ritornare Aspetta due anni Cerca qualcosa Porca troia Non si può guardare Pensavo che fossero Una di quelle cose Che ti piacevano pure Mai mai Quella roba lì Tutta computer grafica Del merda E Daniel Spurchi dice Alessio E' quello di prima Che parlava dei capezzoli Il maglione Anche io ho il capezzolo Turgido E a differenza Tu ho i pettorali Quindi si vede anche di più Ok Ma Mi basta prendere Dei maglioni più grossi Cazzo Però no Se io prendo anche Siccome io sono grasso Se prendo anche i maglioni grassi Dopo lui mi dice Che faccio cagare Ok Pierre Rubo la domanda E matoma viola Pierre Se Dead Stranding Fosse una pizza Quale delle due Sarebbe Quale delle due Ti avrà fatto Ah quelle delle due Queste Non si può dire Non puoi dire neanche Che pizza sarebbe Non so E' random ragazzi Sono due pizze di merda Quindi può essere random Quindi Non è una pizza di merda Ragazzi L'ha detto L'ha detto L'ha detto Spoiler Spoiler Della recensione Non è una No no Allora Quando ti sei visto 8 film In tutti questi anni Vuoi che non ti vedi Il nono Io i biglietti Li ho presi Anche se sono meno carico Rispetto a quanto Di cinema Però tu pensi Che potrebbe In qualche modo Minacciare Il primato Di endgame Per me No impossibile Farà una fiammata Iniziale Potentissima Perché veramente La gente ci andrà Ma non è così Non è più Assolutamente Dicono tutti Immaginatevi che figata Alessio col piercing Ai capezzoli Ho visto Sai Ho visto che fanno Anche gli impianti Sotto per Ti fanno le corna Ti puoi attaccare Delle viti qua Delle viti Cacciavite All'interno Hai praticamente Una piccola vitina Che esce E ci avviti Le corna Quando ti svegli La mattina Te le puoi svitare Quando vai a letto Non le viti Si spanano E poi cominciano A essere girate Dalla parte sbagliata Magari poi rifai L'impianto Non lo so Infatti a me Fa un po' impressione Quando arrivi in fondo Che devi stringerlo bene Mi fa un po' impressione Ma sotto Cosa guardi Per vedere sta roba Non lo so Il video su Facebook E poi Ti puoi fare Gli impianti Nel cranio Perché prima di fare Gli impianti Per avvitare Le corna esterne Si era fatto Quelle interne Ma è una persona Sono delle bozze Che tu ti metti Nel cranio Per cambiare La conformazione Cos'è delle bozze? Sono degli impianti All'interno Che ti Rigidi Che vengono impiantati Sempre sul cranio Ma all'interno Che gonfiano la parte Tu hai un corno Ah ok Un corno Un bozzo Come se avessi Un grande bernoccolo Per Due bernoccoli qua Due corna qua E poi era coperto Per il 95% Sul corpo di tatuaggi Interessante Ed era un tatuatore Ed è il tuo idolo? No però Sembrava una persona Molto molto delicata Molto Però Però disturbata Perché comunque Ma perché se sei delicato Puoi essere disturbato Se sei delicato Non sei disturbato Sì Nel senso che Di primo acchito È veramente Spaventoso Spaventoso Nel termine Cioè Ti ritrai per forza Perché è talmente altro Rispetto alla normalità Poi quando parla Lo senti Un buon padre di famiglia La moglie Il bambino Per fortuna Lo lasciano libero Di decidere Se vorrà tatuare Quello non l'avrei tollerato Ok Mi dice Clarencito Chiederti se poi Hai visto il film Di Wong Kar Wai Non ancora Allora In realtà Ne abbiamo parlato Il bello Che ho guardato Il primo Che mi pare che fosse Non mi ricordo il titolo Se me lo vuoi ricordare Io ho detto Mi ricorda Di Wong Kar Wai Ma ha detto due titoli Ok Uno era 2049 2046 Una cosa del genere Guardo il trailer Del primo Perché decido Se guardarlo E dico Molto bello Mi piace un sacco La fotografia Come è inscenato Mi ricorda tanto Un film che avevo visto Con due vicini di casa Sempre giapponesi Sì E lui era uno scrittore Roba del genere Ho detto Stai a vedere Sono andato a vedere Il trailer di 2046 2049 Come cazzo si chiama Ed era il film Che avevo visto Molto Molto Deja vu Mi è piaciuto Bello Ti sei ci dato Sì E infatti lo guarderò sicuro Perché mi era piaciuto Un sacco Quel film Un sacco Allora Sai cosa ho rivisto? No A proposito di Film senza trama Che dovresti Non so se li hai visti tu La trilogia Before Di Linklater No Before Sunrise Before Quelli che piacciono un sacco Anche a A lettera Quelli con Ethan Hawke Che incontra la ragazza Sul treno In viaggio in Erasmus Non mi hai mai parlato Vincenzo E lo stesso regista Che ha fatto Boyhood Quello In 12 anni E roba del genere Che mi ha fatto vomitare La trilogia È top Perché ci sono Ethan Hawke E questa ragazza Che fanno il primo film Probabilmente 27 anni fa Sì Poi fanno il secondo film Dopo 9 anni E il terzo film Dopo 9 anni Sono Before Sunrise Before Sunset And Before Midnight E in questi film A parte il primo Che era un po' più ingenuo Però per questo Ancora più sincero Più bello Esplosivo E capolavoro Sono tutte e tre Molto molto Sono tutte e tre Bellissime Il primo per me È un capolavoro Veramente Romantico Esatto E gli altri Sono molto belli Perché in realtà Sono ciascuno Una lunga conversazione Sono le due persone Che si incontrano Nell'arco della loro vita La prima volta in treno L'altra volta a Parigi La terza volta in Grecia Sono in Grecia E continuano questa storia D'amore nel tempo E dovresti guardarlo Perché in realtà Non c'è nessun evento Ci sono loro due Che camminano E parlano Ed è Bellissimo Ma guarda Se tu lo guardi Hai una relazione È sconvolgente Cioè tocca veramente Corde profonde Ogni tanto è un po' banale Ma nella banalità C'è non Lo vedo con piacere Hai visto Massimo Massimo Non lo so bruciate Hai visto Massimo Pericolo Dalla Bignardi Cosa ne pensi Del fatto che lo abbiano trattato Da persona adulta E non da ragazzetto Trocatello Con le solite domande del cazzo Si è Massimo Pericolo Pensavo sapessi Cosa sono i punti canale Non lo so Non ne ho più palli di idea Ho visto che sono stati messi Ma non so a cosa servono Penso che siano dei punti Tipo esperienza Che guadagni Stando sul canale E poi li puoi spendere Per mettere in evidenza I tuoi messaggi La diamo per cotta O vuoi che la giri No diamo per cotta Fa schifo proprio Mamma mia Tutta bruciata No non è bruciata Qua è cotta Ma qua è meno È quella cosa del girarle Allora gira la Però un minuto Gira le un minuto Hai visto a proposito Watchmen Non ancora Ho letto una recensione entusiasta Di Giuseppe Grossi Io solo recensione entusiasta Vabbè tu come al solito E tu ho Super Biaset Recchioni Super Biaset E poi l'altro Eccetera eccetera Recchioni pregiudiziale Perché Alamuro lo sai Che ha Già non aveva Accettato che facessero il film Certo Ha ancora più disconosciuto Certo L'opera E Damon Lindelof Ha fatto sti cazzi E non compare ovviamente Neanche fra gli autori E quindi Che c'entra sta cosa con Recchioni Beh Recchioni fa quel lavoro lì Vedere comunque escluso Un autore Per questioni prettamente commerciali È un Quindi Dopodiché No le recensioni sono tutte Ottime Hanno detto che hanno trovato Una chiave Originale Ma coerente Con il Con l'universo Che Funziona Io avevo zero voglia di vederlo Ho letto prima Stamattina tutte le recensioni entusiaste Tra cui quella Del bravissimo Giuseppe Di Movie Player Devo dire Probabilmente stasera Me lo guarderò C'ho ancora l'abbonamento di Skype Per il fatto di X Factor Me lo guarderò Pierpa Per rispetto di tua figlia Infilali la sigaretta nel culo No tanto mia figlia non sta qua Lui morirà per se stesso Non è un problema Allora Tra parentesi a proposito di non morte Mia madre Oggi viene dimessa dal Ah sì Dovrebbe essere Ah quindi è benissimo L'operazione è tutto eccezionalmente C'ha un pacemaker E dovrà Dovrà far Dare invece lei Credito al fatto Che ha una seconda chance Speriamo Interessante Speriamo che E non tutti possono avere Una seconda chance Robert Downey Jr. Dicono che in realtà È visibilmente Peggiorato Invecchiando Per questo assomiglia a te No loro soffrono Soffrono Cioè In realtà soffrono La differenza Robert Downey Jr. Facendo Endgame Ha continuato A tingersi Per tutto il periodo Ok Adesso Si è Grazie Boysurf Per l'iscrizione Si è allontanato dal personaggio E si è lasciato naturale E lui ormai È canuto e bianco Molto più di me Come me Più di me Credo abbia più Una decina d'anni Più di me Si riporta un po' meglio Ma perché Ma capito Non fa un cazzo C'hai milioni Anch'io se avessi milioni Andrei in palesa Tutte le mattine Tra l'altro L'onora dice Che ti aveva detto Di farti la barba Come Robert Downey Jr. Però ci ho pensato Ha cambiato stile Ci sto pensando ancora Fatela Secondo me Se per il parrucchiere È che non la fa fare Beh ovviamente Di andare dal barbiere Di andare dal barbiere Eh beh certo Di andare dal barbiere A fartela fa E fartela bene Allora Alessio soffre di priapismo Ai capezzoli Chi è l'intellettuale Che avete ingaggiato Al posto di Pianesani Per fare cosa? Boh In generale Invece non capito un cazzo Perché ha già superato Le preventive di Endgame Dice Matoma Viola L'abbiamo detto L'abbiamo aperto Dicendo quello Ma questo non significa Minimamente che farà più Di Endgame Questo proprio Non significa assolutamente nulla E di sicuro Non farà più di Endgame Dicendo fra i disadattatini Non ci sono dei grandi Intellectuali È incredibile questa cosa qui Sono sconvolto anch'io Di questa cosa qui Allora Avete visto No? Il primo episodio di Onora La recensione di Death Stranding Non se ne parla Ragazzi Qualche commento Sul cammino Ne abbiamo parlato La puntata scorso Fa completamente cagare È una buona Conclusione della storia di Jesse È una buona È un'inutile conclusione La storia di Jesse Tra l'altro Visto che fa troppo ridere Che Gilligan In un'intervista Ha detto Sì effettivamente Non serve a nulla Confermo che è Completamente inutile L'ho fatto come fan Cioè Per far felici i fan Ma non aggiunge Assolutamente nulla La storia È bellissimo Che se ne sia raccorto da solo La rotella è la No l'avevo messa a posto O forse si l'avevo messa da lavare Forse l'avevo messa da lavare Controlla Allora A proposito Recensione a quattro mani Avete già Tuzzato su alcuni punti Da analizzare Non so che significa No Vuoi Vuoi dell'attualità vera Sì Cosa ne pensi Della dichiarazione Di Grillo Pierpa movieplay Sponsorizza progetti indipendenti Mi chiede Filippo Che significa Che vorrebbe Vorrebbe che poi Cioè movieplay Dà dei soldi A chi fa i film Assolutamente no Proprio Noi crediamo nel mainstream Cioè se vuoi Sponsorizza il prossimo endgame Esatto Eh Fatemi vedere Secondo me non è coppa Eh Porterete avanti Il gameplay di Warfare Strain Non credo Eh Non avete specificato In casi mondiali totali Certo L'abbiamo detto immediatamente Negli incassi Che assolutamente Non farà neanche Secondo me No 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 Molto meno di endgame La miliardata Secondo me la fa sereno Sì un miliardato Sì ma molto meno di endgame E non ha fatti due Sì due Scusa eh Allora Due ore senza pathos Di un piattume allucinante Immagino voi state parlando di El Camino Sì sì Completamente inutile Pensa quanti soldi sta facendo Cioè Quanto dura per me Per te dead standing Che figlio dead standing Ragazzi Non parlo di dead standing Non so più come dirvelo Sono sotto embargo Cioè Non ti continuo a fare domani Secondo te Quanti soldi sta facendo La Disney Con questi film Cioè Infiniti Infiniti È proprio Infiniti A livelli mai 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 Sì sì Infiniti Completamente Per me infiniti Da quando per Alessio Gli orari lavorativi Sono stati un problema Per andare in palestra Di piuttosto Non hai voglia di andarci Effettivamente hai detto Una grande stronzata Se non lavoravo Andavo in palestra Cioè È come se non lavorassi Ho prenotato il biglietto Per seguire con voi La Blitzcon Luca Grandissimo Eh raccontala questa cosa qua Però non possono più iscriversi No Quanto c'è? Ci avete messo due secondi Zero praticamente Sei contento? Più che altro Non pensavo Anche Stato contento Blizzard Anche Blizzard Esatto Ci ha fatto i complimenti No Quello che posso dirvi A voi che seguite il salottino È che in realtà Ci sarà un barbatrucco No nel senso che Già abbiamo sentito Blizzard Ci darà altri biglietti Quindi se non siete ancora riusciti a prenderlo Perché questi 50 sono andati via in un istante Venerdì Ve lo posso già preannunciare Venerdì ne metteremo altri 20 Saranno veramente gli ultimi Basta Metti il link Prima di Metto il link qualche minuto prima Su Telegram E ne potrete prendere Tanto il link in realtà rimarrà lo stesso Lo riapriremo Semplicemente quello lì Per mettere altri 20 biglietti Sarà una bella figata quella roba lì Una bella figata Cosa ci aspettiamo dal Blitz Allora io mi aspetto assolutamente Diablo 4 Cioè devono dare una bella cosa Ma si sa già quale sarà L'inizio dalla merda Il gadget esclusivo Cioè io lo so ma non si può dire Ah non si può dire? No Questa secondo me deve essere orribile Anche Tipo liquida strana È la minifigure di Diablo 4 Questa sa No devi mangiare questa Questa è La devi assaggiare questa No no Questa è gialla Devi mangiare questa Sa di giallo No devi mangiare questa Sa di giallo È incredibile Manca il sale È dolce Questa parte è dolcissima È piccante Ed è pastosa orribile Fa schifo Fa schifo No ma ti prego Mangia questa Qua è dura Ti prego Mangia questa È una cosa Abominevole Abominevole proprio Parola giusta Abominevole Allora Giocheremo No non lo diciamo Cosa giocheremo giovedì Sarà un grande Un grande Una grande sorpresa A Luca posso avere Un abbraccio sudato d'Alessio E chiede Carlo Salini Ho preso il biglietto solo per lui Sì Non facciamo Non facciamo Se siete donne Potete avere anche Il cazzo di Alessio A Luca L'abbiamo già detto Non facciamo Uno speciale Halloween Sempre con un easter egg Come gli altri anni Non credo Mi devo far inventare qualcosa Giocate The Beast Inside Non c'è neanche cosa sia Sì È il nuovo giochino Da streamer Di paura Con i jumpscare Non credo Avete poi visto Undone Ancora non l'ho visto Io Undone Lo devo ancora vedere Alle 15 Esce la review The Other Worlds Sì Dio santo Adesso questo è incredibile Fa Fa schifo come nient'altro al mondo Sa di ketchup È tutta sbagliata È piccante Schifo Ed è spastosa Dolce Perché è cotta male Secondo me No ma la senti quanta è sbagliata Si Puzza Questa quanto fa schifo Questa è difficile Questa Te l'ho detto altro che quella Questa qua infatti Io non la finirò personalmente Puoi evitare di Mangiare sulla pizza Che devo mangiare io Devo mangiare Eh mangiati sui pantaloni Tanto hai questi pantaloni Che sono imbarazzanti Mangiaci sopra Non so Io non sto mangiando così Sa di Fa schifo Sembra tipo un ketchup Non lo so Questa fa vomitare proprio Questa fa Questa è veramente sbagliata Ma se tu te La fanno Cioè solamente per fashion No O se tu te c'è qualcuno Che veramente se la mangia All'essero secondo me la mangia Non è possibile Magari ai bambini piace Dio santo Questa ti ho detto Questa è imbarazzante Questa è mangiata In confronto questa è buonissima C'è il sale Questa qua è dei due commessibile Però ci vuole un po' di sale Dolce Non ti sembra di mangiare Una roba dolce No Ti vuoi mangiare una roba cattiva Mentre qua mi sembra di mangiare Una roba Immangiabile Questa è semplicemente Una roba cattiva Allora Sempre sudato Alessio Ehm Milk Mardock Si vede che non ci segue L'abbiamo fatta l'altra volta La pizza al forno Fatta da noi Ma non è venuta bene Con l'impasto del Conrad Però eh Perché ragazzi Cioè non riusciamo Sì a farci l'impasto pure Impastare Magari con l'impasto A lievitazione istantanea Effettivamente dicono tutti Ma non avevi detto Saresti andato a Lucca Solo sospitato da una ragazza Ehm Spoleriamo Di fronte Di fronte alla richiesta Accorata di Pierpaolo Che mi dovrà essere grato Di questa cosa Però alla fine Rimanete anche voi Fino all'ultimo giorno Giovedì ci sono i pigiami Alla Lidl Ci se ce la dicono adesso Nonno Zelda ci dice Rimaniamo Rimanete anche voi Fino alla fine Alla fine No solo te E Vincenzo Quando? Il primo? Il due? Fino alla fine Ma voi invece Quando andate via? Primo? Venerdì Che è il primo? Quindi io rimango Anche sabato e domenica Tu venerdì Ci sei venerdì O te ne vai Ci sono Parti sabato mattina Parti venerdì sera O sabato mattina Sabato mattina Quindi facciamo serata Venerdì Però il bello Che io volevo Semplicemente passare a salutare Di questa cosa Mi devi essere grato Però perché No ma No ma veramente Perché mi incasino il lavoro Gratissimo Mi incasino il lavoro Rimango lì soltanto Perché me l'hai chiesto Perché non ha nessun senso Altrimenti Cioè non lo prendere Come se mi avessi fatto Un piacere Perché un piacere Era dire Vieni a salutare Sabato i ragazzi Allora ti ho fatto un piacere Perché a te i bagni di folla Piacciono Sì ma non Sei giorni E ti divertirai molto Con le ragazze E tutto Che ti vengono a trovare Visto che avrai Cioè Ti sei già organizzato Per scopare almeno Una disattatrina Sera Sì Ho bisogno di sale Allora Venerdì primo Farete una live Q&A Su Luca Ne stiamo parlando Con Gregori Quindi seguiteci Vi faremo sapere No no Lo butti via Fa schifo Fa schifo proprio Poi Alessio che si incasina Lavoro Mi incasina il lavoro Esistono disattatine No infatti era una presa Per il culo per Alessio Ovviamente Allora Com'è Allora chiederò Dopo Alessio quando rientra Quanto porta di Reggiseno E come va su Tinder Effettivamente non abbiamo Aggiornamenti da Alessio Su Tinder da un po' Confermo Allora fatemi vedere Quanto è frigo Alessio Con gli occhiali Secondo me Alessio Da tutto se stesso Per far star bene una donna Mi dà questa impressione È vero Confermo Confermo che Alessio È molto altruista L'ho detto già mille volte Anche quando ci invita Mi invita A me ad esempio A casa sua E così via Confermo quello che dite È estremamente Estremamente altruista Estremamente Perché avete iniziato Prima oggi No abbiamo iniziato Alle 13 Il salutino inizia Sempre alle 13 Mi chiedono Mi dicono che di profilo Porti una terza Ma scusa Ma possiamo Spettere la Allora come va con Tinder Uno se funziona In mezzo alla tundra Dove ti trovi No dove trovo io No E se va dove va Quando vado in certi posti In città o roba del genere Funziona O in vacanza Ma come sta andando con Tinder Non metto il sale Sulla mia roba Il Come sta andando Purtroppo quando sono in giro Magari riesco a fare qualche match A quaderni È impossibile Sì Vuoi andare a parare? No Ti cercano Di un magazzino Grazie Digli che dopo posso prenderlo Oppure se qualcuno viene Me lo porta su Non è comprato Le lenti a contatto Se vuoi c'è la pizza di Halloween Lì sopra È eccezionale L'abbiamo data Perché è la cosa più buona Che possiamo mangiare Fra le surgelate No Mister Belgio Come si chiama? Taverna Giuseppe Taverna Giuseppe A me fa cagare anche questa qua Ciao Antonio Taverna Giuseppe si chiama Taverna Giuseppe Si Taverna Giuseppe Si chiama Taverna Giuseppe È la pizza Guarda Grazie Allora Vi saluto a Giorgia Mi sei consigliare qualche posto dove mangiare bene a Londra Buona Basta pagare Come ho detto in più di un'occasione c'è L'Old Bank of England Che è la sede della vecchia banca d'Inghilterra Dove si mangia Ci mangiano le torte Si mangia Cucina prettamente inglese In particolare sono buonissime le torte ripiene di carne Di interiora o di carne Di pezzi di carne Eccezionali Ovviamente se vi piacciono Mangiare la carne A Intendite le quiche Non credo sia amino quiche E sostanzialmente pasta sfoglia Torte classiche Si No pasta sfoglia Quasi più una Quasi una frolla Cioè Non è Non è a sfoglia Un po' più Quasi a frolla Fra figurette Buonissime Buonissime Però a te vi piace quella roba lì Fanno anche un ottimo fish and chips Altrimenti altri posti di nota C'era un posto dove ho mangiato un fish and chips Con il purè di piselli Eccezionale Che stava in zona Camden Town Ma non ricordo minimamente come si chiama Però è un po' difficile consigliare a Londra qualcosa a mangiare Perché anche lui ci sarò stato 4 volte Non andrò a Londra No a parte ci sarò stato 10 volte Sono contento A parte ci sarò stato 10 volte a Londra A chi è piaciuta Alle ragazze A chi sono le ragazze Ci sono delle ragazze in ufficio Sì Non lo sapevo E che a Londra non ci vado veramente da 4-5 anni ormai Cioè non ci vado che Me ne sto tranquillo una sera e tutto quanto Quindi Quindi è difficile da questo punto di vista Non vi darei consigli aggiornati Stick Pie si chiama Esatto esatto Confermo È vero L'abbiamo pure fatta un salottino Che l'avevi presa a te Una di quelle la finte La Steak Pie Sì Steak Pie Allora Caro Alessio ti auguro davvero di trovare una brava ragazza Che ti ami per quello che sei Dice Luca Luca Orozco Ma sbrigati Visto che l'età avanza I tuoi capezzoli perderanno vigore Ricordalo Un bacio Allora Dice Leonora Cosenza Che lei e Momoka ci sono Per serate porno Ti ha visto su questa cosa qui Alessio Se ti può interessare Allora Fatemi vedere ancora Miss K. Lorina ci segue Miss K. Lorina è quello da Omer Sì scusa Bart Allora Comunque da studente di medicina Banner Squad dice Da studente di medicina Banner Squid Ti dico Quelle tettine non vanno per niente bene Perché? Si definisce ginecomastia Potresti avere un'insufficienza epatica Oppure essere semplicemente un ciccione pigro Il diabete come va? Il disambito del sangue L'ultima volta che li ho fatti Ormai Però Cari Stavi No sei mesi fa Stavi in fasce Sei mesi fa Otto mesi fa Effettivamente andavano benissimo Ma? Ma è passato molto Ale c'è non è quell'app Che ti dice Da quanto è smesso di fare sesso Come quella delle sigarette A quanto sta il conto? Perché ridi? Non c'era il counter Comunque Non c'era il counter Era abbastanza grande Ma chi è? Scusa Uno fa sesso Fa ting Evidentemente Poi dice Da quanto è che non lo fai Ci sono due o tre Phil Rouge Che ritornano periodicamente Il se La tua periodicità sessuale Cioè la tua vita sessuale E la mia morfologia Le tue tette Diciamo Densamente la tua morfologia Le tue tette E anche la tua vicinanza Con Robert Downey Jr Questi tre elementi Ritornano molto molto spesso Ah Umberto si è fatto sentire Hai guardato Whatsapp? Lo sto tenendo aperto Ma non so Allora Alessio come vanno i rapporti Con Italpizza? Non mi hanno risposto Su Instagram Chissà come mai Beh però non ha veramente Nessun senso Perché? Dici sei un grande influencer Che loro meriti Risposta? Ma gli stiamo facendo Una pubblicità Che secondo me Si devono baciare i conti Ma che arroganza proprio Che cazzo vogliono? Allora Alessio Dice Carlo Salini Posso portarti un'amica Da presentarti il 31? Non ha problemi Con gli inenti videogame Ma ricordati di essere rispettoso Nel caso Perché Io sono molto rispettoso Molto distaccato Quindi? Ma molto rispettoso Qua ti dici No Ah presentami una ragazza Ma con grandissimo piacere E Lollo ha detto Ti invito per un bel viaggetto sessuale Ma chi è? Lollo Per un viaggetto sessuale Solo io e lui O magari Un viaggetto sessuale Dentro di lui Magari Ecco su questo Ho più Ho qualche perplessità in più Rispetto a conoscere una ragazza Allora Ragazzi Domani sarò a Colonia Dice Robby X Mi consigliate Dove andare a mangiare la sera? Io l'unico consiglio che ti posso Non è di annullare Il viaggio il prima possibile Però se proprio Se proprio sei obbligato Ad andare a Colonia Ci sono due posti Un è Fru Che sta in centro Vicino al Duomo Dove devi prendere lo Stinco E un altro è C'ha un nome del cazzo Dove diamo sempre l'altro Sì non mi ricordo come si chiama C'ha quel nome Off Bambam Blouts Blancrunch Non mi ricordo Come faccio a trovarlo? Dall'Insel Hotel Dovete andare all'Insel Hotel In Costantins Strasse E Off Si chiama Cerca un po' Insel Hotel E te lo ritrovo Che è eccezionale Per i viewster E le salsicce È un posto veramente galattico Quello Oh no Ci sei All'Insel Hotel Esatto Si chiama Gast Statte Gast Statte Lommer Zeym Lommer Zeym Lommer Zeym Gast Statte Lommer Grafico Molto Molto Tarix Dice Però smettete di prendere in giro adessio solo per i suoi capezzoli C'è anche il collo Sono contento che ti sia piaciuta la pizza Non c'ho una fame Senti Ale Facciamo Parliamo di un po' Vedo che stiamo andando chiacchierando di stronzare Volevo far vedere come si sono cotte bene le Quelle le Aspetta che la devo riprendere Aspetta aspetta Allora l'idea di metterle in forno probabilmente non è stata la migliore Aspetta 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 ti prego Un attimo ragazzi perché questa fa molto ridere Guardate come si sono cotte Allora Prima di tutto le patate Aspetta che Aspetta ferma ferma che non so perché Le patate sono cotte bene Aspetta Anche se sono un po' strane Le faccine della McCain sono molto più buone Le mangi ogni tanto Le faccine della McCain che significa? Quelle patatine a faccina della McCain Hanno una paratura Una crosticina si forma che in questo caso non è venuta perfetta assolutamente Aspettate un attimo ragazzi Allora Queste sono le Le patate Non c'è un'ottima connessione Ma va bene Adesso vi facciamo vedere le crocchette C'è è venuto tipo Un lago di zucca Che schifo Ma no mi fa vomitare solo il pensiero Ma guarda ma piuttosto mi devi proprio pagare un sacco No ma tira via il piatto Tira via il piatto Appoggialo qua sopra il piatto Tira via il piatto No perché voglio mangiare un altro po' di pizzi Tiralo su Dove lo tiro? Sollevalo Sollevalo Perché gli fa sta cosa che scotta Non scotta un cazzo È freddo L'ho lasciato prima Allora Sei riuscito a far male persino Io non so come tu riesca Perché eppure sai cucinare bene Sei riuscito a far male pure queste Come hai fatto? Secondo me queste non sono particolarmente buone Mamma mia Che schifo Che schifo Allora Che schifo Ma non ti devi assaggiare questo qua Ma neanche morto No questo lo devi assaggiare No no lo assaggio fa schifo Mi fa senso anche guardare Magari non se ne manco venute cucinate No lo puoi assaggiare L'ho già assaggiato Mangia questa L'ho già assaggiato Mangialo tutta Il sapore è quello Guarda che è la meno peggio di tutta questa Eh non lo immagino Ma assaggiano Ma prendi una Magari quella è vuota Prendi una più ricca Dove vai? Cioè la telecamera non mi piace Perché siamo troppo spostati Allora Che devo prendere? Prendi una di quelle un po' evase Bravo Fa schifo Lo sai che mi fa veramente senso? Però mandi in atto Eh? Però mandi in atto Non capisco Sembra di quella di Stranger Things Ah No devi mangiare anche No devi mangiare la palle Ma non dire cazzate Dai non esagerare Non esagerare No fa schifo adesso Non esagerare Devi mangiare il vomito Devi mangiare la panatura Non è vero È lo stesso ingrediente della pizza Fa schifo Mettilo in bocca Mettilo in bocca Sereno Dopo senti il sapore No mi fa schifo L'ho mandato giù io Che mi fa schifo tutto Ma tu mandi giù tutta No è vero Non è vero Beh Ne hai mangiato una intera te In terra Due Non puoi dire che fa schifo Cioè Puoi dire che fa schifo Ma non puoi dire che non è commestibile Si mastica Dai Non è possibile Di cosa fa? Mi vomito No un po' di zucca Mi fa schifissimo È sbagliata la consistenza Deve essere il grasso del pollo Però è allevamento a terra Mamma mia Comunque sprechiamo molto cibo qui Fa schifo È vomitevole Vomitevole La produzione industriale di cibo Peggiora sempre più Invece di migliorare È orribile È orribile È orribile Allora No no non vomito Per fortuna Cioè pensa alla gente normale Cioè mi scappa l'orina In fastidio Dice Potreste togliere la visualizzazione Delle repliche per gli abbonati È deplorevole È deplorevole E tu come fai a mandarlo a fanculo adesso? Mamma ci va da solo Ignorandolo Allora Peggiora soprattutto se non lo sai cucinare Dicono tutti Il cibo industriale Vabbè andava fritto Quello io non è Posso mettermi qua a friggere Vuoi assaggiare? La pizza Halloween? Assaggia questo Che c'è dentro? Zucca Zucca Dai Non è verde Hai tutto con la zucca Un boccone unico Un boccone unico L'abbiamo tutti mangiato Un boccone unico Un boccone unico Ma sa di zucca È santicchia eh ragazzi Aspetta vieni davanti Fai vedere la faccia Mentre lo mangi Un boccone unico però Si ma scotta? No No scotta Scotta assolutamente no Ma non è drammatico Non è drammatico Fa vomitare a dei livelli Ma lo so Non lo so Ti deve piacere tanto la zucca Secondo me è tutto sbagliato Ma Matteo insomma Hai mangiato di peggio Dai Sembra Una roba al formaggio Tu l'hai mangiata E invece le faccine Vabbè queste qua sono patatine fritte Io non mangio roba dell'idol Mi dispiace No il McHale però È la più costosa È la più costosa Delle patate americane Io al massimo mangio Le croccomagie con il topolino Le croccomagie con la faccetta Mi ero dimenticato che sei crocio Ma se ti piace il topolino Non sei crocio Ma no Ma io lo so Ma che schifo domo che è Mamma mia Fai veramente schifo il cazzo Ma vuoi dire infatti Non conosci le croccomagie con topolino No Ma io mi assegno come al solito Dai confetti di Alessio Mi dissocio completamente Completamente senza senso Croccomagia Questa è la maglia di Bargertown Presa a un code XP anni fa Io segnalo la clip Quindi sono le stesse cose a forma di topolino Però sono più alte Più belle Ma sta bene no ragazzi Ah però di pizzoli Pizzoli dai fa la roba buona Mi ha detto che ti segnalano come Razzista e dei vasori fiscali Ti piace il topolino? Sì allora Parliamo di attualità per una volta Che cosa ne pensi? Mai Della proposta di Grillo Di escludere molti Da una certa soglia Gli anziani dal voto Ma non l'ho sentita questa cosa È stata due giorni fa Come mai In base a che? E come anche dalla guida? Cioè lo stesso concetto della guida? No no Io te lo propongo come un titolo di libero Che è Grillo Basta anziani al voto Perché dopo una certa età Far votare una persona di 80 anni E 70 anni 80 anni Sul futuro della nazione Guarda che io Stimo molto Grillo Stimo molto Grillo Ma è una stronzata Non è una stronzata per me Purtroppo in Italia Con la Con la crisi L'utore si fa già da 40 anni però Perché già a 40 anni Non te ne frega più un cazzo Del futuro della nazione No Cioè Però è sbagliato Perché quando vai a toccare Il meccanismo Se il motivo è Perché a loro non ti frega più Un cazzo del futuro della nazione Non ti pare una stronzata No è un motivo strategico Dopo una certa età Non è che Non ti frega più Però Il tuo orizzonte di vita È diverso Quindi Il lunghissimo periodo Quindi prendere decisioni importanti Ti pesa un po' meno Però è anche una stupidaggine Io lo so Come tu possa Adorare Grillo a suo livello Però quel tipo di decisioni Vengono prese tramite referendum Non tramite Lecce di bilancio L'altra parte È una età del froscio Semplicemente Perché gli piace Topolino La dice già lunga Suo livello Mi conosce Allora Nessuno Nessuno pretende Che con leggi ordinarie Si tolga il voto Agli anziani Quello che mi piace di Grillo E che fece anche l'altra volta Con una provocazione abbastanza forte Che era quella Aboliamo il Parlamento Preso Con le dovute Precauzioni Quello che dice È sempre stimolo Di un ottimo dibattito politico Certo Perché va Perché va a toccare delle corde Che altrimenti sono tabù E che invece come tutte le cose Senza pregiudizioni Ma hai sentito questo grande tabù Del voto agli anziani Per me non è un tabù No però basta sentirlo La gente è scandalizzata Ma non è una stronzata Io non ce l'ho scandalizzato Allora No devo dire Non è che sono scandalizzato In un'Italia Con una demografia Che si sposta Prepotentemente Verso gli anziani Prontò 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 Parlare di qualche tipo Di ribelganciamento O comunque Sensibilizzare al tema Non è Anche con una provocazione Non è una cazzata Perché è bene parlarne Perché almeno si torna A parlare Cioè Come parliamo di futuro Mia madre Buonanissima donna Gentile Bravissima Ma non ha Allo stato attuale Gli strumenti Per vedere il futuro Che può avere Un trentenne O roba del genere Allora Infatti Il dibattito È È una stronzata No No È dibattiamone Ma è una stronzata Perché non è che tu voti Per il futuro Sì Voti per il futuro Non è cazzata Perché voti Che futuro Se votano fra 50 anni Spesso si vota su robe Dei prossimi sei mesi Proprio questo è sbagliato Per me devi votare Sulla roba A 50 anni Però è inutile Perché tanto i governi Dopo 50 anni Vengono cambiati Quindi che voti a fare Per 50 anni Impianti Una Un'incardini Un'incardini Una direzione Tipo Un'incologia Da qua votiamo Che da qui al 2027 Indipendentemente Se cambiano I governi Da qui al 2027 Aboliremo L'utilizzo Non succede Nessun governo italiano Questa è un'ipotesi Un dato di fatto Cioè c'è mai stato un governo italiano Che ha fatto un piano Di sviluppo Di investimento Di gestione dell'ambiente A 25 anni Se controllo Probabilmente sì No a 25 anni Magari no A 15 A 15 anni Controllo Ma no ma non esiste Cioè è proprio una cazzata Non è una provocazione È una strozzata Cosa dicono Cosa dicono Non dice le cazzo Ma hai dato Umberto Mi sa Eccolo Aspetta Aspetta Umberto Che non abbiamo le cuffie Aspetta Puoi sentire Umberto Che cosa dice Eh sì Lo confugiamo subito Per questo dibattito Prendi le cuffie Tu eh Aspetta Umberto Che non ti sentiamo Ci sei Yes Perfetto Ma ti sei liberato Valera Sì l'ho finito Che bello Racconta dov'era Raccontaci un po' Il volo dove eri Allora stamattina Ho fatto Ho fatto Doppia sbatta Ho fatto business Business Abbiamo incassato Sì Ero da No Però ero da Microsoft Stamattina E adesso Ho fatto Ho pranzato Con i ragazzi di invidia E il tema Dei due Dei due incontri Si può dire Il tema Il tema di Microsoft Sì era La nuova linea Surface E invece Invidia L'incontro Di chiacchiera Sono molto triste Sulla nuova linea Surface di Microsoft Che non hanno rinnovato Il Macbook Cioè il Macbook Il Il Macbook Era prevedibile Che non rinnovassero Il Macbook Quello di punta Come si chiama Alessio aspettava Il rinnovo del Macbook Da Microsoft Il Surface Macbook Umbo Come si chiama Come si chiama Quello di super punta Ma infatti Ubo C'è già spento Sono tre Aspetta Infatti c'è rimasto malissimo Stamattina mi ha detto Ma ascoltami Il Macbook nuovo Del Surface Non c'è di Microsoft È stata È stata una delusione Infatti mi sa Che non andrà bene Questa volta Ok L'iPhone Ho visto che è ritornata Anche sul mercato Della telefonia Microsoft L'iPhone nuovo Quindi quando lo fa A parte le stronzate Sì Ma poi sono partiti Sono partiti dall'undice Non mi interessa Ubo Non mi interessa Voglio sapere Come mai Non hanno rinnovato Non c'è Non continuano Sulla linea Come cazzo si chiama Non so che vuoi dire Non si capisce Il Surface Quello super Super Perché non fai parlare Nei che sono le cose Perché non mi sta Facciamo parlare Perché tanto non c'è Ma non ti sa che dici Parla parla Sono tre prodotti Fondamentalmente La linea laptop Surface laptop Che è arrivata al numero 3 Poi c'è il Pro Che è arrivato al 7 Poi c'è il Pro X Che è quello Diciamo nuovo Non so tu a quale ti riferisca No Alessio ce n'ha uno Che conosce solo lui È il MacBook Surface Te l'ho detto È il Surface Di quello Di quello Non si è detto niente Forse al CIS Si vede qualcosa Ma secondo me Secondo me Secondo me Un modello Che ha solo Alessio In esclusiva Che è fatto È quello per chi Non scrive basta Per il professionista È per il vero professionista Esattamente Per quello che fa montaggio In grafica È solo per lui Però a parte gli scherzi Devo dire che Tanto Microsoft Non ascolterà questa cosa Quanto è arrivato Il Surface Sono abbastanza perplesso Al Facebook Sono abbastanza perplesso Dalla nuova linea Adesso Adesso Non c'era Il Surface Book A che versione è arrivato Gli ho detto Al terzo E lui Ah vabbè allora c'era 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 Che alla fine Sono d'accordo Sul fatto che Non è che sia Sta grande innovazione Nel senso che Vabbè Il laptop E il pro Lisho Diciamo il pro 7 Sono Cioè sono molto simili Agli altri Hanno aggiunto Su entrambi la USB Sì E sul 13 E sul pro 7 Hanno utilizzato la nuova linea Di processore Intel di decima generazione Però diciamo Uno step generazionale Che viene abbastanza da sé Sia la USB Che quello Per il resto Sono fatti molto bene Però hanno sta cornice Molto grossa Rispetto ad altri prodotti Simili Enorme Sono belli Ma Poi c'è il 15 C'è il 15 Che per le aziende Monta ancora Intel Invece per consumer Monta AMD Sì Per mettere la versione La versione quella Una versione specifica Nata dalla collaborazione Microsoft E AMD Molto interessante Perché potrebbe essere Diciamo un apripista Di quello che sta facendo Con la nuova Xbox Sì È figlia della stessa partnership Cioè io ti dico Un computer così Che comunque Cioè non è un portatile da gioco Prendere sempre un 13 e mezzo Piuttosto che un 15 Io onestamente Sono molto d'accordo con te Per me Stiamo parlando del portatile Sì Alessio No sono due i portatile Sono il laptop e il book Sono due Si sta parlando Di quale dei due Il laptop Di cosa stai parlando Allora c'è il laptop E poi c'è il Surface classico Che è un laptop però Quello con la Con la tastiera Non me lo dice Surfacebook 3 Io voglio sapere Il Surfacebook 3 Ok Il book cos'è Ora guarda che bestia Stemmio in metropolitana Ale Non esiste 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 il Surface Laptop 3 No è vero Ha letto Ha letto un bellissimo articolo Di Mark Spunauer Che gli dice Microsoft Surface Book What to expect Microsoft Surface Book 3 A me piaceva un sacco Il Surface Book Troppo costoso Ma un grandissimo prodotto Continua a dire laptop Si è un laptop Ovvio che è un laptop Però fanno due linee Del laptop Fanno quello Fanno quello Che aveva prima Quel tessuto di merda Sopra il coso Che per fortuna Quello è il Surface Quello è il Surface Che ancora c'è Con la tastiera Ancantara Se Dio vuole L'hanno tirata via Poi c'era il Surface Book Che era quello pro Defendiamolo così E poi c'era il cazzo Di tablet Il cazzo di tablet È il Surface A cui se attacchi la tastiera Se attacchi la tastiera E diventa quello Che dici te C'è il Surface Che è il tablet No Quello con l'alcantara Non era il Surface Con l'attacco Della La tastiera Non è in alcantara La tastiera è in tessuto Quello che La tastiera è ricoperta Con la Vabbè ragazzi Col tessuto Poi Guarda che sei tu Oltre Oltre A questa linea di prodotti Si scusami vai C'è anche Il Surface Pro X Che è quello fatto Che utilizza Il processore Qualcomm Quindi è Windows Onarm Si E lì Non lo so Allora Ha un po' di soluzioni Tecniche Molto carine Un po' più nuove Che non si capisce Perché non abbiano usato Anche sul process Onestamente E qui tipo Ha la pennina Che si carica Direttamente Sulla cover Comunque Ha il modulo LTE Poi lì Windows Onarm È una scelta Nel senso che Chiaramente È un processore Meno potente Rispetto a Intel E intanto Sta arrivando La metro Più rumorosa Del mondo E non lo so Io non sono grande fan Di Windows Onarm Comunque congiunto Con la doppia possibilità Vederlo Mi piace moltissimo Come idea Mi piace moltissimo Come idea Sì Mi dai ragione Questo è il Surface Laptop Che non è Il Surface Con la tastiera Perché Il Surface Laptop infatti Esatto E poi c'è Il Surface Book Questi sono due laptop Ok Sì Sono due C'è un Surface Book 2 Che c'è il Surface Book 3 Punto di domanda C'era Ecco È che quello Infatti Quell'articolo diceva Non esiste Quello che mi ha dato fastidio Allora avevo ragione Dall'inizio E che hanno interrotto La produzione del Surface Book Che era Forse lo conoscevi solo te Perché Ma era fichissimo Era iper costoso Iper costoso Stavo dicendo Per me è molto interessante Il Surface Duo Avevo ragione Sono super scettico Del Surface Del telefono Il Surface Neo Quello lì Che è veramente ridicolo Quella mattonella gigante C'è quel video Quella cornice È imbarazzante Il Duo Lo trovo molto interessante Purtroppo il laptop Con tutto che mi piace Moltissimo esteticamente Secondo me Microsoft ha fatto Un cambio di passo Importante A livello di design estetico Io per esempio Ho comprato la tastiera E il mouse Senza fili di Microsoft Per l'ufficio Reindustria dell'idea Che il prezzo È veramente Troppo fuori mercato Quel prezzo lì Così come il design A 15 pollici Che la penso Perfettamente come te Cioè trovo interessante Che abbiano voluto offrire Un portatile AMD Per chi magari cerca AMD Ma per me È una roba Un po' fuori mercato Come qualità prezzo Come prezzo Cioè il problema Il problema è che tu fai Tu ovviamente porti La piattaforma AMD Su un portatile Perché vuoi dare Vuoi una spinta maggiore A lato multimediale E tendenzialmente Anche un po' di gaming Però su un portatile Che dà lo chassi Alla tastiera Cioè non è pensato Per il gaming Io ad esempio Non so Non so una volta Che quella roba Si scalda Cosa succede Con lo chassi Senti Mentre Alessio Stava comprando Il suo Facebook Stavamo discutendo Un minuto prima Che arrivassi Della proposta Di Grillo Di togliere il voto Ai vecchi Cosa ne pensi? Cosa ne pensi? Perché Alessio Si sente un po' Tirato in ballo No io dico che Una bella provocazione Mi piace di Beppe Grillo Il fatto che porti Dei temi anche Spinosi Perché ovviamente Sul titolo di Libero Basta vecchi al voto La gente si scatena Parlando di fascismo Follia O roba del genere Quando in realtà Nel dibattito politico Ci stanno riflessioni Di questo tipo Allora Chiaramente È una cosa detta per dire Perché tanto Non potrà mai andare Oltre la provocazione È chiaro che Per come è messa l'Italia Il problema Sono i vecchi Da ogni punto di vista Sia perché Sono chi ha creato i problemi Sia perché È chi È chi costa di più È chi produce di meno È una provocazione Che ci sta Però Direi che Non si può nemmeno parlare Della realizzazione Di una roba del genere Però sì Come idea ci sta Perché dice Dice che c'è un problema In Italia Per cui il dibattito Si può anche fare Poi odio Non si arriverà mai A dire Io che ho detto Non bisogna dirlo Ho detto È vietato dire una roba del genere No Che ho detto Tra una stronzata Le vale il voto ai vecchi Perché non capisco Qual è il problema A far votare i vecchi Però lui invece dice Uno dei problemi dell'Italia Sono i vecchi Che però è diverso dal voto Che c'entra con il voto Con la possibilità Di farli votare Che ci accetta Perché se il problema È i vecchi Come lo affrontiamo Levandogli il voto Possiamo A levargli il voto Si risolve il problema Si risolve il problema dei vecchi Scusami Umbo Possiamo abolire Quotacento Scusami Umberto Se levi i voto ai vecchi Si risolve il problema dei vecchi In Italia No Eh no però tu stai dicendo questo No Assolutamente Si risolverebbe Nel momento Cioè Si potrebbe risolvere Perché a quel punto Non lo so Chi è più giovane Direbbe Tagliamo di metà Tutte le pensioni Ma non solo Pensa Pensa A livello politico Che tu fai le promesse elettorali Non orienti più Le tue promesse elettorali A La dentiera gratis Per tutti Perché a quel punto È irrilevante Ma nessuno fa le promesse elettorali In funzione dei Berlusconi Disse Che dentiera Gratis per tutti All'ultima elezione Dove portò Cioè stiamo veramente Discutendo di Berlusconi No Il problema è che Adesso così Berlusconi non può più Parlare con i vecchi Quindi si risolve Il problema di Berlusconi Ho fatto L'esempio estremo Più stupido Per tentare di far capire A te Che hai bisogno Non è un esempio Però è un fatto Però è successo È successo Ma non mi stai parlando Mi stai dicendo una roba Senza senso Non vai a irretire Non si risolve il problema Berlusconi Se devi la possibilità Di votare i vecchi O le promesse inutili Non è vero Perché orienti magari Più alle politiche attive Sul lavoro E non al prepensionamento Cioè comunque Secondo me È interessante Spostare Porre Porre l'accento Su un problema Che esiste Il prepensionamento Rimane sempre come il problema Perché se levi il voto ai vecchi Non penso che lo levi ai sessantenni Lo leverai agli ottantenni Quindi il prepensionamento Ti rimarrà sempre come il problema Ti rimarrà sempre come il problema La gestione delle pensioni La quota cento Perché o lo levi Come ti ho detto Ai cinquantenni Dai cinquanta in su E allora è un conto Se lo devi levare agli ottanta Cioè non c'è nessuno Che fa oggi una politica In Parlamento In funzione degli ultraottantenni Cosa dicono in chat? Nessuno Stai dicendo Entrambi una grande cazzata Sentiamo cosa dicono in chat? Sentiamo il parere del po' Togliete il voto ai coglioni Non ai vecchi Staccate la spina ad Alessio Però i coglioni Per esempio io no Purtroppo come fai a tirarlo via Chi è che decide qual è il limite Della coglionaggine? Con l'età Con l'età ce la fai Con la coglionaggine È molto difficile Però è la stessa È impraticabile allo stesso modo Non lo so Per me Vedrete quando sarà Il salottino al governo Per me il problema Vecchi di merda Allora non succede Ma allora dovesse succedere È chiaro che dopo due settimane È tutto Sarebbe tutto finito No non finisce nulla Perché io ho cinque anni Per fare il cazzo che mi pare Perché avrò una maggioranza ampia Che mi garantisce anche di fare Di dita culo Da palazzo chigi così Al popolo Con i forconi Si è visto come i gherlini Quella roba lì è ridicola Ah no Di Maio Di Maio Abbiamo abolito la povertà Sì Pensa una roba storica Al taglio dei parlamentari In un'Italia Allo scatto a calcio Celebrare quel risultato lì È imbarazzante Imbarazzante ma ci hanno fatto Una politica Per l'amor del cielo Ci hanno fatto un partito Su quella roba lì Esatto E adesso c'è Salvini C'è Salvini Potevo andare a chiedere Cosa ne pensassero Dell'abolizione della povertà Da parte di Di Maio Fuori dalla stazione centrale Per sentire un po' Cosa dice Potresti chiedere Se è stata abolita La povertà lì Se conferma No che fa ridere adesso Che Salvini Dal pulpito Del Dello showcase Leghissa A Roma E parla di PD e di Movimento 5 Stelle Come la casta Da battere Cioè pensa Pensa all'involuzione Del discorso Dice Verruca Verruca con pelo crespo Tranquillo Ale Ci sei dentro Se tolgono il voto Per la coglioraggine Ha detto Faccio da parametro Esatto Ha detto quindi Può essere quello là Faccio da benchmark Non lo so Per me è talmente una stronzata Sta cosa del voto Ma ragazzi A voi va bene Continuate a parlare Del nuovo DPI Del nuovo Surface Laptop Del coso MD Che vi va bene Tutte le specifiche tecniche Le specifiche tecniche Dei vostri giocattolini Dei vostri giocattolini Da primo mondo Da primo mondo Da primo mondo Che si preoccupa Del come faccio a giocare The Witcher Maxato Sul mio laccio Ma cosa avete mangiato Oggi piuttosto Una roba imbarazzata Dovresti riguardarti La puntata Perché oggi Era tema Halloween Ha comprato due pizze Mostruose Halloween Dell'idol Le pizze Halloween Delle crocchette Lui può vedere Sta guardando Twitch Lui sta andando in giro Nel tempo Adesso Entra nella macchina Nel tempo Passato al surreale Hai capito Ma fai delle domande Che sono surreale Gli avrei fatto vedere Gli avrei fatto vedere Le confezioni meravigliose Della linea Halloween Dell'idol Pierpa sveglia I vecchi non votano Movimento 5 Stelle Allora Cosa ne pensi Del Novax Ogni tanto torna Il Novax Alla dimostrazione C'è stata l'epidemia Di morbillo In Africa Secondo me Il Novax Non ci sono i Novax In Africa No Non ci sono i Novax Ma non ci sono i vaccini In Africa Ed è talmente La palissiana La cosa Che per me C'è Basta mandare Quelli Novax In Africa Quello va Escluso dal dibattito Per me Novax Dovrebbero andare In Africa E dove ci sono i vaccini E vivere lì È drammatica È drammatica Perché è drammatica Spiegati Come dire Sviscere la tua valutazione Per disparare Un giudizio Io credo nella scienza Nel metodo scientifico E nella comunità scientifica Quindi non è che Gli scienziati Ti stanno prendendo per il culo Perché sono comandati Dalle grandi corporazioni Del mondo C'è il rischio Ma Per ottenere Quel risultato Devi coordinare Talmente tante persone Competenti Sparse nel mondo Che spesso volentieri Hanno un'etica fondata Proprio Sul metodo scientifico Sul senso della scelta Come scoperta Del mondo E' veramente Difficile Dopo che Il medico Che ti dà l'aulin Invece che Il farmaco generico E il giorno prima Scopri che era Alle Seychelles A fare il simposio Degli antidolorifici Può essere Un po' di bias Ci potrebbe essere Ma Da qui A passare I vaccini Sono il più grande complotto Dell'universo Cos'è perché Ma cosa è successa Alla tua metro Ha fatto delle Ha fatto dei rumori Si provava un bombardamento Stava deragliato E che ci sono Ci sono i dossi In metro Incredibile Comunque cosa ne pensi Della nostra Duff beer Beh è inutile Bevibile Fammi vedere un attimo Un attimo Stiamo bevendo la Duff Un po' Cosa ne pensi Della gente Che crede Alle scie chimiche Adesso Vabbè Io tutta quella Purtroppo Quella roba lì Ribadisco Torno sempre Metodo scientifico Scienza Cioè tu quindi Mi stai dicendo Che non è vero Che tutti gli aerei Hanno a bordo Dei tag Con cui spargono Scie chimiche Per cambiare La fertilità Delle persone Il dubbio Cioè mi stai dicendo Veramente che è così Il dubbio è legittimo Cioè adesso Che hanno fatto anche Il volo Da New York A Sydney In modo da poter Sparare Scie chimiche Per un periodo Ancora più lungo Ma si può Con la terra piatta Si può andare Non era che L'Australia Non esisteva L'Australia è inventata Ma Sydney In verità È un set cinematografico Secondo il terrapiatismo Ok In verità Loro ti portano Sempre in un altro punto Ok A me A me Queste teorie Quella che appassiona Sempre di più Quella legata Alle foreste Le foreste Esatto Quella per me È incredibile Quindi tutto il problema Della Marconia Non esiste No In realtà Quelli sono boschi Cioè la teoria dice Che in realtà Non esistono le foreste Che differenza c'è Tra il bosco E la foresta Perché la foresta È il gigante È enorme Che estensione Ma sono dei boschi In verità Cioè se tu vai In verità Sono dei boschi Inframmezzati Da strade E villaggi Non è una foresta Non è una foresta Quindi la tua distinzione Tra foresta e bosco È l'istensione E la grandezza Degli alberi Perché se tu vai Avete visto Watchmen Non ci sono alberi Abbastanza grandi No non l'abbiamo ancora visto Tu sei uno di quelli Che l'ha visto? No ero tentato ieri Ma poi non Ho guardato altro Ieri sera Ok Però sono curioso Ne ho letto benissimo Anch'io Io ne ho guardato Roba coreana Di cui non frega un cazzo Nessuno Cosa hai visto? Dici il titolo? Vagabond Molto brutto Che però è un titolo È una serie orribile È un titolo inglese Non è un titolo coreano E di cosa parla? Boh Una roba tipo Spionaggio Thriller Ma abbastanza triste Un film? Ma sei sicuro che sia coreano Non inglese? Parlano in coreano Ma magari è un titolo Quello è un indizio forte Beh però che c'entra? Che vuol dire? E sono tutti gialli E parla in coreano Quelli sono due indizi Abbastanza forti E è ambientato anche in corea Ma giallo saturo? Giallo asiatico Giallo saturo che si dice Tipo il giallo Non giallo canarino Tipo il colore della zucca di prima Ah ok Allora No quindi insomma Sul fatto dei vecchi Basta abbiamo risolto? Eh sì che tu sei contro Ma non hai ragione di assoluto Non è che sono contro Ho detto che Tu vuoi il voto per tuo padre Devi votare Lo facciamo votare Non credo sia un problema Non ti preoccupare Tuo padre potrà votare Non lo vedo il problema E potrà difendere il vostro patrimonio Con i denti Cioè per me Una cazzata La lotta all'evasione fiscale Contro i privilegi Del prepensionamento E dei pensionamenti retributivi Tuo padre è protetto Non ti preoccupare Non è un problema L'eredità ti arriva al 110% Il problema secondo me Che schifo Non è il fatto della votazione dei vecchi Non ridurre La riduzione Pensate sul futuro La riduzione E tutti sono immediato A uno dei problemi È una semplificazione che fai tu Io sto semplicemente dicendo che Tu fai la massima semplificazione Perché dici Se leviamo il voto ai vecchi Allora faremo le politiche sul futuro Non ho mai detto Sei tu che fai il massimo Non ho mai detto questo Ho detto Pensa al dibattito politico Se quella fetta della popolazione Venisse esclusa Non ho detto Se escludiamo i vecchi Il futuro sarà migliore Eh Parliamone Però parliamone Senza pregiudizi Senza aver paura Di togliere diritti A chissà chi Senti allora Dice Lollo Che guarda sempre i film coreani Per l'enorme mole di patata inserita Confermi che è pieno di figa Sono pieni di figa i film coreani Un po' Beh sì Sì Abbastanza Vabbè ma come i film occidentali O di più Come i film occidentali O di più Cioè No più o meno Direi nella stessa quantità In quantità In quantità Ma invece in qualità Nel senso che La percezione della donna Nella cultura coreana È ancora Un po' diversa Dall'emancipazione Me too Dell'America Questo traspare Non traspare nei film Cioè quindi c'è questo overpower maschile Non traspare No nei film no I film sono I film e le serie sono più avanti Rispetto a Alla cultura quotidiana Sì Ti chiedono i 43 milioni sequestrati Dove sono? Te lo chiedono i 43 milioni sequestrati Visto che parli di mio padre Con la normalissima pensione Chiedono i 43 milioni sequestrati Sono La Pianesani Family Dove sono? Sono perfettamente tornati in disposizione Perché sono a disposizione dell'azienda Per poter continuare a lavorare Ma tanto Quindi avete unto qualche granaggio Abbiamo soltanto due anni Perché dopo Non esiste più la plastica monouso E quindi? E quindi la Pianesani & Co Finirà come tutti i fatti umani Come la mafia Come Perché ti stai paragonando Cosa è la mafia? Cioè perché il tuo primo esempio È stato la mafia Esempio casuale Quando hai parlato della tua azienda Hai detto come la mafia Perché non hai detto come Non lo so Qualche cosa Come la chiesa Greenpeace O come la chiesa Hai detto come la mafia Perché? Perché? Perché ho citato Falcone In cui disse Falcone Come tutti i fatti umani La mafia sarà destinata Semplicemente era Una citazione di doppio livello Solo per chi ha più Riferimenti culturali Un po' più colpi E dicevo quindi Questi 43 milioni Sono tornati a disposizione Della società Sì Il procedimento va avanti Ah quindi va avanti Il procedimento Cioè Per ora siete ancora colpevoli? Non c'è Per ora siamo ancora innocenti Alla tua famiglia Mio zio non è in grado Di intendere volere Allo stato attuale Ha dei problemi di demenza È uno di quelli a cui Toglieresti il voto? Penso che se lo sia tolto da solo Ok La natura gli era tolto Ok E mio cugino sarebbe nella fascia in cui continuerebbe a votare Ma gli hanno tolto il passaporto? Però è un progressista Come tutti i ricchi snob Ma gli hanno tolto il passaporto o no? No Non glielo ho chiesto Secondo me è molto interessante Io dovrei chiedere A te non l'hanno tolto il passaporto? A me ancora no Ancora non l'ho tolto Possiamo andare alle tre anche a me Però Però pensa quanto sarebbe bello Se mentre stiamo per partire a Piumicino Per andare alle tre Ti fermano E dicono Signor Pianesani Lei non può partire Perché abbiamo rimosso il suo passaporto Abbiamo annullato il passaporto O ancora meglio Pensa che cazzo di videodiario Che verrà fuori O ancora meglio Mentre siamo lì E quando siamo al gate Io in realtà prendo il gate di fianco Che va a Panama Esatto O magari annulla nel tuo passaporto Mentre siamo in America Ti annulla nel passaporto Apolli de Pianesani La famiglia Pianesani Come è che si chiamava il film di The Terminal Eh The Terminal Come è The Terminal Rimani come The Terminal Rimani nell'aeroporto All'Axe Poi è un bel aeroporto Rimani nell'aeroporto di Los Angeles Senza passaporto Senza poter fumare Allora Perché adesso sembra Tom Hanks in Philadelphia Dice LG Apollo Ti ho appena visto Sto un po' smuggendo Era mai dato di Hites Sì Hites Ok Allora E si faceva No non si faceva Denzel Washington Si faceva Denzel Washington No Denzel Washington Era l'avvocato Che film hai visto? No perché era E' proprio come te Ale Malato di Hites Si fa Denzel Washington Ma non si faceva Denzel Washington Denzel Washington Era l'avvocato Lui aveva un altro fidanzato Non mi ricordo Che fosse l'attore Penso che non si veda mai Secondo me Una volta Quando fai flashback Ragazzi si vedeva Il fidanzato di Tom Hanks In Philadelphia Allora Fatemi vedere Alla E3 Durante la presentazione Di Playstation 5 L'Interpol Arresta Pianesani Live Ma sarebbe molto bello però Dicono che era Banderas Il fidanzato di Banderas È vero Tu ti faresti Banderas Banderas No non è il mio tipo No non è il mio tipo Quando era giovane? No no ma è ancora un bell'uomo Ma non Non è il tuo tipo Banderas? No 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 È più ricenguire il tuo tipo È più veramente ricenguire No no per me Ti ho detto mi piacciono Siccome cerco quella fascia Sia nelle femmine Che vanno verso il maschio E i maschi che vanno verso il maschio Beh Banderas è abbastanza femminato Che categoria è quello? È assolutamente femminato Cosa un po'? È un maschio latino Banderas Che categoria è quella Della femmina che va verso il maschio? Androgino Androgino Lui ti piace Quelli lì che quando le guardi Pensi che siano uomini Esatto Io sono mascolino E gli uomini che quando le guardi Cioè serve per nascondere La mia omosessualità Adesso piace tantissimo Gianna Nannini per esempio No Gianna Nannini no Perché è un maschiaccio È diverso Non è androgino Allora tipo chi è che ti piace questo? Ho detto che era Nightly Quelle robe lì un po' Efebiche Molto magre Mi piace Come si chiama la lesbica di Twilight Che mi piace un sacco Quella è bellissima Eh però Ma lei non è mascolina Ma poi continui a utilizzare Questi termini dell'omosessualità Con una violenza verbale Ma è lesbica Santicchia è frocio Perché ti piace Topolino E quest'altra sta lesbica È lesbica Ma è proprio brutto Non ho detto lesbicaccio Ho detto che è lesbica Cioè non c'è niente di strano Dire che è lesbica E si chiama Forse perché io non ho Le tue Kristen Stewart Che è bellissima Ma non è androgino Ma è lesbica lei È chiaramente androgino Super androgino Ma che cazzo dici androgino È bellissima Super tomboy No ma che dici Super tomboy Tomboy non prevede Che abbia il capello corto Non è detto È mascolina Ma è il capello corto No dipende da quando Sei tagliato Quando sei tagliato I corti Mi piaceva ancora di più Lui Kristen Stewart È molto femminile Non è assolutamente Non è assolutamente Ma è lesbica È lesbica lei Confermato Sì 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 Ti piace anche Winona Ryder Ero è troppo Sì mi piaceva molto Però adesso è la vecchia Penso sia più giovane No è più vecchia di me Perché quando ero piccolo Lei faceva i film con Di sicuro è più vecchia di Alba Non lo so Forse è un decano Sigoni Weaver No perché quello è troppo Mascolino Cioè quello è troppo maschio Per me Cioè c'è una differenza Cioè comunque Evidentemente mi piacciono le femmine Per questo mi piace più Kristen Stewart Che non Winona Ryder Winona Ryder No Winona Ryder Come è che hai detto Che Alien No Ah Sigoni Weaver Com'è che hai detto Ma perché devi fare Com'è che hai detto Fai il movimento Ok No devo vedere Quando è nata Sì Winona Ryder A 47 anni Winona Ryder Eh vedi non è tanto Cinque anni più di me Quindi è come te Sì però è più grande Cioè quando io avevo Quando io ero in età puberale Lei già faceva i filmini Ti masturbavi su Winona Ryder Mi piaceva molto Era un sex symbol Quando ero piccolo Quando ero piccolo Eri un sex symbol Quando eri piccolo O lei Ho capito che tu Eri un sex symbol Quando eri piccolo Ok Vi banano Dobbiamo cancellare la live Ci stanno sento tutti Che per le tue uscite Su gay Ci baneranno questa Ma perché ci devono bannare Se uno dice lesbica Cioè se uno è lesbica No perché prima hai detto Di Matteo che era gay Ma che cosa c'è di male Con le F Non si può dire le F Le F su Twitch Sai non si possono fare I capezzoli Le scollature E dire le F Allora Fatemi vedere Che schifo mamma mia Vivete Vivete veramente In un brutto mondo Anche Angelina Jolie È troppo vecchia per te Guarda io non sopporto questo Com'è che si chiama Mierc Mierca C'è Alessio è peggio di Salvini Quel c'è C'apostrofo E Ma sì ma non esiste Non si scrive così In nessun modo C'è piuttosto che vi C'è Cos'è C'apostrofo E C'è da dire una volta per tutte Angelina Jolie È brutta È brutta È difficile È stata una bella ragazza E che ha dei lineamenti talmente pronunciati Che invecchiando purtroppo si deforma Secondo me brutta Non è mai stata bella Era carina quando era giovane Era molto bella quando era giovane Pure secondo me Invece piuttosto vi do un consiglio Come si chiama la figlia degli Aerosmith? Liv Tyler Liv Tyler era Tantissimo se non fosse che ormai pesa È anche lei fa schifo adesso Lei era bellissima Era bellissima Lei era super fine In Armageddon era bellissima Lui ti piace? Chi è lui? Il padre? Eh o potrebbe essere uno No però in video Perché è un po' femminile lui No in video quella generazione lì Tra lui e quell'altro dei Rolling Stones Cioè tutti il chitarrista Il cantante Mick Jagger Che si sono fatti la qualunque Si sono distrutti di alcol Di figa Di droghe Di cos'è E ci hanno 80 anni Sì sono gli unici due che sono soprappressuti Sì però è super Tutti quelli che sono attorno È super facente No il cantante è gli Aerosmith Cioè rientra nei tuoi gusti O neanche quello Vabbè chi è? Chi rientra nei tuoi gusti bro Non me l'hai detto Hai detto Kristen Stewart Che è una ragazza bellissima C'è di maschi? Eh certo Devo controllare Ma hai detto Banderas no No è troppo È un maschio rapino Richard Keir no No è un maschio americano Ryan Gosling No è super maschio È muscoloso No mi fa cagare proprio Ha una faccia da lontra E cioè ho capito Ma tipo la tipologia Non riesco a capire È tipo i modelli Sì è un po' i modelli No non possono essere muscolosi Perché sono maschi Tu li vuoi? Non voglio che sembrino maschi Perché se no Cioè comunque mi respinge Quindi tipo te con le tettine? No no Mi piace mi piace L'androgenia Quella riga Cioè tu vai verso Un maschio che sembra Kristen Stewart Se lo trovi Ma Kristen Stewart è una ragazza bellissima Non esiste Ma non è vero Un maschio che assomiglia a Kristen Stewart Un modello Un modello Magro Carino Dobbiamo mettere Dobbiamo mettere un annuncio su Instagram Con una toglia Chiunque Cerchiamo un maschio Che sembra Kristen Stewart Ah no no Ce l'ho ce l'ho È di Redmine Non so chi sei Quello lì di Animali Fantastici Eh un po' di più Vedi? Ah l'abbiamo trovato il ragazzo No un po' di più Però ancora no Ancora Cioè Sai secondo me A chi piacciono I modelli Quelli Non i modelli Quelli Quelli Dei intimo Muscolosi I modelli Quelli Quelli Magrini Alta pastorella Alta moda Può essere Può essere Allora Ragazzi Perché lì la sessualità scompare Per giovedì Vogliamo il nome Di un modello Che al 100% Può piacere ad Alessio Portatelo a Lucca Esattamente A Lucca Organizzeremo una serata In cui Alessio Incontra il suo modello Dei sogni E vediamo Jared Leto Esatto Jared Leto Mi piace molto Chi? Jared Leto Sì Però è mascolino No perché Perché ti lasci il capello lungo Quando lo vedi da dietro Lascia perdere il capello Lascia perdere il capello Lui ha quella barbetta Perché può cavalcarlo Tenendo i capelli Cos'è che ha detto Non lo so Che schifo Cos'è che ha detto Se lo puoi cavalcare E ti reggono per i capelli Che schifo Per questo invece Non ci bandano Basta non dire la parola Con la F No Diciamo Jared Leto È super mascolino Non è super mascolino Ma come no Madonna Alessio Ho fatto persino Joker Proprio perché Ha dei lineamenti Molto mascolini No per me non lo è Però mi piace Perché non è Per se mondo te Perché assolutamente Non ha Non punta Sulla Sulla mascolinità La sua estetica Non è particolarmente Muscoloso Non è particolarmente Villoso È È Una carnagione Di quelle di porcellana O qualcosa del genere Per me lui rientra Al limite Di quella Di cui insieme Ti hai visto Allora Se dovessi fare un sogno Se dovessi fare un sogno Tu ideale Cioè La scena E il doposcena Con Eddie Redmayne E Jared Leto Cioè Saresti È tipo proprio Un momento di Non ritorno Chiaramente no Abbandonato all'estasi Dei sensi Stiamo parlando Stiamo parlando Per supposizioni Tu mi hai chiesto esplicitamente Che genere di uomo Ti potrebbe piacere E io ti ho detto Quale genere di uomo Mi potrebbe piacere Questo non vuol dire Che il mio sogno erotico È farmi Cavalcare O farmi cavalcare Da Jared Leto Cioè Non lo so Se hai Perché avremmo potuto Organizzare Magari tramite Tramite Luca Liguori Qualcosina saltava fuori Un'intervista a Jared E poi gli dico Jared e ti amo Tra l'altro Cioè pensa potresti Se fai a letto Con Jared Leto Li potresti cantare Le tue canzoni E lui magari Te le può produrre Esatto Lui poi Lui è un cazzo Con i 30 Seconds to Mars Cioè magari diventi Tipo La band Che apri i concerti A te era piaciuto Senti potresti aprire I concerti Di 30 Seconds to Mars Ti è piaciuto A te piaceva Il Joker di No Non ti piaceva Il Joker di Jared Leto Zero Per me era Un'interpretazione Super pop Che aveva Quello di Jared Leto Quale che era Quella verde Di Su Science World Sì Perché a te piace lui Adesso abbiamo scoperto Quindi è troppo facile Cioè secondo me Mi fa ridere Che lui ha avuto Il coraggio Di lamentarsi Del recente Joker Cioè quel dietro Lui Ha fatto quel fin di merda Incredibile Sì 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 Questo è ghost Non è ghost Non ci sono quotazioni Cioè Jared Leto Avrebbe sabotato Il film Così è Ma 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 Veramente Cioè tu ormai Vivi talmente tanto Dentro Con Mariene Ma se lo dicono tutti Perché Ma ci sono tutti Che Tutti Che È proprio giusto Che continui a pensare Alle scie chimiche Invece che cosa dici Di Francis Forcopola Chi No Basta Ne abbiamo parlato Francis Forcopola Sì L'ha detto anche oggi Un altro regista Anche ha detto Ma ne abbiamo parlato troppo Quindi Sono tre meno un quarto Ce n'è stato un altro regista Che oggi ha detto Adesso non mi ricordo il nome Un altro regista L'ennesimo regista Che ha detto Sì ma è lo stesso argomento Dell'altro Fanno cagare Non me lo ricordo Ma No Voglio dare Un consiglio Prima di salutarti Sto guardando Non mi ricordo come si chiama Su Netflix La serie è quella con Protagonista Cardi B Che è quella specie di Reality show Sul rap Molto divertente Non ho idea Di quale Di quale serie tu stia parlando Conosco Cardi B Ma non ho presente la serie Molto divertente addirittura Sì beh Sì è una specie di reality show Dove si sfidano i rapper Però figo E poi ti Una cosa Soltanto per Per Pierpaolo Devi farti Tu ti devi ricordare Una persona Con cui abbia lavorato Negli anni Che ci stava Molto sul cazzo Che poi ha cambiato lavoro Perché c'è una bomba Su di lui Ti do tempo La fine della La live Per pensarci E poi Ti mando un messaggio Però scusa Tu fai questa roba D'inside ma non svelerai Per il pubblico No no ovviamente no E allora perché lo dici qua così Così Era per fare un po' di teasing Detto questo Giustamente Vorrei chiudere con questa domanda Comunque tutti dicono Tutti dicono che i vaccini Fanno venire l'autismo Quindi deve essere vero Capitan Poppo Chiude con questa cosa qui Capitan Poppo Capitan Poppo Confermi che non vuoi essere dominato Quindi gente come The Rock O Vin Diesel Non ti vanno bene Assolutamente no Cioè assolutamente Non mi vanno bene Cioè The Rock che ti vorrebbe far fare una vita incredibile Non mi interessa Non mi interessa Beh anche Vin Diesel Più The Rock secondo me Più The Rock Non mi interessa Proprio mi Non è proprio Peccato perché sarebbe una scena epica Più dominata Secondo me The Rock Di prende Pensa The Rock che prende Alessi e lo domina Ma dobbiamo parlare Però pensa la scena Faresti un film? Faresti un film? Cioè se ti dessero dei soldi Per fare un film con The Rock che ti domina? No Cioè dipende quanto Eh vedi? Vedi come capiscono il film Hai detto no dipende quando No perché Un milione di euro per essere dominato la The Rock Perché sconfesserei quello che dico sempre Un milione di euro per essere dominato la The Rock A parte che lì con quegli anabolizzanti Secondo me C'è da soffrire poco 5 milioni Alessio Allora ragazzi Il salottino raccoglie i soldi Kickstarter Crowdfunding arriviamo a 5 milioni di euro per fare il film in cui The Rock domina Alessio E' un po' bisogno Poi bisogna cominciare The Rock C'è una bellissima idea Quanto vorrà però Bisogna sentire The Rock cosa ne pensi? Cioè però C'è però se li raccogliamo 5 milioni di euro Vuoi che lui dice di no? Cioè comunque è importante Secondo me The Rock si presta Se raccogliamo i 5 milioni di euro Speriamo Allora noi ci rivediamo giovedì In Bitly 5 milioni di euro in Bitly Ok Un cazzo si chiama Fa un miliardo di miliardi di Bitly Allora Ci rivediamo giovedì Con un gioco segreto che faremo io Alessio I gameplay alle 14 Grazie per stare con noi Grazie Umbo per il tuo tempo Grazie a voi Vuoi salutare qualcuno in particolare? No teniamo Umbo Perché adesso io voglio sapere lo spoiler Ok dato che chiudo tutto Però aspettate Ciao ciao Grazie